sono qui con il responsabile commerciale di interface marco bianca ciao ciao buongiorno e buon lavoro e anche a te benvenuta in questa fiera in questa bella hospitality sud se parliamo di interface che cosa offre l'interface si occupa di rinnovare il parco tv tramite prodotto che sa samsung lg e philips professionale una tv dedicata ai hotel prodotta solo da questi tre marchi facciamo consulenza di vendita le tre aziende non hanno rivendita diretta ma si affidano a dei professionisti ed in più abbiamo sviluppato un sistema di interfaccia di comunicazione che permette di utilizzare la tv al posto dei supporti cartacei quindi di fornire informazioni di fornire gli eventi della città le mappe il proprio menu i costi del proprio frigo bar la propria password quindi per diminuire le telefonate quindi anche il lavoro le ripetizioni inoltre poi questo tipo di servizio viene portato in giro tramite un QR code quindi il cliente rimane connesso alla struttura tutti gli aggiornamenti e se non cancela la pagina anche quando va via il cliente rimane connesso alle attività della struttura noi facciamo questo molto interessante e vendiamo il supporto che è la tv professionale che che va tra virgolette a sopperire anche a necessità come quelle della privacy quindi cancellare i dati sensibili cosa che in quei professionisti che per errore comprano tv consumer da negozio e le installano in hotel non possono avere e purtroppo violano la legge anche a loro rischio e pericolo ecco prima nel fuori onda mi stavi raccontando e spiegando un po le caratteristiche di un televisore a schermo piatto come questo allora partendo dalle smart tv che sono un po le tv del momento a livello di moda hanno la capacità in particolare di cancellare tutti i dati sensibili dopo 15 minuti dall'uscita in camera inoltre vengono interfacciate tramite i nostri sistemi ai gestionali dell'hotel quindi questo sistema può cancellare anche soltanto ad uscita del cliente quindi check in e check out check out il cliente cancella inoltre le tv professionali hanno una qualità nel nell'utilizzo dell'energia elettrica quindi doppia classe di tripla classe quadrupla classe di consumo qualità ignifiche quindi tendono a spegnere la fiamma nel momento in cui ci dovesse essere un incendio almeno sulla tv stessa e poi la possibilità di programmare un messaggio che è quello di benvenuto dinamico c'è una cosa che spesso ci trae in inganno quasi tutti nelle tv da casa abbiamo la funzione hotel che è una funzione molto banale non è una tv hotel è una funzione che regola i volumi o la luminosità al massimo quindi grande differenza di prodotto quindi noi facciamo questo vendiamo queste tv con diamo una consulenza giusta in base al tipo di rete che l'azienda ha quindi wifi piuttosto che rete antenna su cui vuole far lavorare la propria tv e poi creiamo la comunicazione specifica la programmiamo e la facciamo funzionare che riscontro state avendo dalle varie aziende dagli alberghi e dai clienti è bello dire andiamo fortissimo e lo dicono tutti noi abbiamo un momento veramente buono lavoriamo con con l'alta fascia per oggi siamo anche sui medi sulle catene importanti abbiamo armani hotel nh sheraton kellen of quindi ma siamo dentro gardaland sui resort di gardaland stiamo terminando il secondo resort abbiamo fatto val tour cioè venta club alpi tour cioè abbiamo tantissimi clienti che si stanno spostando non solo sull'acquisto della tv ma sul supporto di comunicazione e poi abbiamo delle strutture più piccole intorno alle tre stelle che si stanno avvicinando e fortissimo l'interesse dei bnb perché laddove la famiglia passa o la persona passa è necessario tante informazioni spesso quelle strutture sono gestite da una sola persona quindi diventa un grosso lavoro trasferire tutte le informazioni noi li supportiamo in questo c'è il saluto di benvenuto appena si arriva certo il saluto di benvenuto se vedete sulla tv in questo caso addirittura oltre al saluto di benvenuto abbiamo la presentazione della nostra pagina con già tutti i servizi tutte le informazioni che vengono offerte assolutamente innovativo grazie grazie marco e buon lavoro grazie a voi e ci vediamo alla prossima